In provincia di Lecco si trova il quinto comune con il reddito medio più alto in Italia. È Varenna dove, stando le dichiarazioni presentate nel 2022, ogni residente guadagna in media 38.637 euro l'anno, un valore di poco inferiore al quarto comune in classifica, Portofino. Senza dubbio i numeri della Perla dell'Ario meritano una riflessione in più perché il reddito medio è praticamente raddoppiato fra il 2020 e l'anno successivo, passando da 21.804 a quasi 40.000. Sono questi i numeri disponibili sul sito del Ministero delle Finanze. Il reddito complessivo italiano, nelle dichiarazioni presentate nel 2022, ammonta 47 miliardi di euro in più rispetto all'anno precedente, per un valore medio di 22.540 euro, in crescita del 4,5%. Rispetto al 2020 c'è stato un aumento delle persone che hanno dichiarato un reddito superiore a 20.000 euro. La Lombardia registra il valore medio più alto con 26.620 euro. La Calabria è la regione con il reddito medio più basso, 16.300 euro. Per quanto riguarda la provincia di Lecco, seguono nella classifica dei comuni più ricchi, dopo Varenna, in provincia, Montevecchia 30.615 euro pro capite, in Bersago 28.765 euro e infine Ello 27.611 euro. Fra le città, Merate e Battelecco per circa 300 euro, con il capoluogo che attesta un reddito medio di 26.215 euro. Quasi tutti in Brianze i comuni con più di 23.000 euro di reddito pro capite, eccezione fatta per Corte Nova, Moggio e Oliveto Lario. In Valsassina, unicara della nostra provincia ad avere ancora una banca territoriale, si concentrano invece i comuni con i redditi più bassi, vale a dire sotto i 20.000 euro. Fanalino di coda della classifica, Pagnona, con un valore medio di 14.916 euro l'anno.